Volge a termine, come garantito già qualche ora fa dalla regione, l'emergenza di fiuti in provincia di Ragusa. La discarica di Cava dei Moricani tornerà a pieno regime accogliendo l'indifferenziato e procedendo verso la nuova società di gestione. L'annuncio era stato dato ieri sera dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che è anche presidente dell'SRR. Lo stesso Cassì ha comunicato di essere in attesa del completamento delle procedure di subentro della nuova società che si è aggiudicata alla gestione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico di Cava dei Moricani. Un'autentica svolta nella gestione dei rifiuti del nostro territorio dopo anni di gestione in regime commissariale attuata mediante ordinanze d'urgenza. Già oggi quindi sono partite tutte le procedure di subentro della nuova società con i tecnici attesi in loco per stilare i verbali sulle strutture e sulle strumentazioni. L'impianto riprenderà quindi la sua piena operatività da lunedì. A dare questo pomeriggio invece conferma definitiva è stato l'assessore regionale territorio e ambiente Salvatore Cordaro che ha firmato il provvedimento autorizzatorio unico regionale con cui si esprime determinazione conclusiva e favorevole per il progetto di rialocazione definitiva dell'impianto di trattamento biologico-meccanico nel sito di Cava dei Moricani. A ribadire le parole dell'assessore regionale anche il deputato ibleo Orazio Ragusa che ringrazia l'assessore Cordaro, l'assessore Piero Bonne e nel complesso l'aggiunta Musumeci. Il PAUR, commenta Ragusa, è arrivato dopo che la stessa autorità aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, il VIA, con data 16 novembre scorso per il progetto di rialocazione definitiva dell'impianto di TMB proposto dall'SRR Ato 7 di Ragusa dopo il parere favorevole di Arpa Sicilia il 18 gennaio scorso. In ultimo è da sottolineare la concessione dell'autorizzazione integrata ambientale del 27 gennaio scorso in relazione al progetto riguardante l'impianto di TMB da unificarsi con l'AIA per il progetto esecutivo riguardante la copertura superficiale finale della discarica per i rifiuti soli urbani situata sempre a Cava dei Moricani, un importante passo in avanti per tutta la provincia di Ragusa in un momento critico sul fronte della gestione dei rifiuti a livello siciliano.